ciao a tutti oggi parliamo ancora di bracket arena e in particolare delle regole avanzate e delle teorie la premessa fondamentale è guardate il primo video se non l'avete visto forse non capirete nulla la seconda ancora più importante è che alcune cose le abbiamo testate nei nostri castelli nei nostri team nelle arene altre le abbiamo dedotte quindi in ogni slide vedrete una b quando è stata fatta quando possiamo dare per certo che funziona così un punto interrogativo quando è più frutto di una deduzione quindi va preso un attimino con le pinze io so che questo video troverà qualcuno che dice no non sono d'accordo non mi risulta ok ben volentieri parliamone io sono sempre aperto prima di cominciare piccolo test eh sì oggi faccio anche i test sulla destra trovate i livelli bracket almeno alcuni sulla sinistra tre possibili squadre guardate la prima la seconda e la terza provate a immaginare il loro bracket in che bracket arena vanno questa è la risposta se avete sbagliato vi consiglio di tornare indietro forse vi manca un passaggio e non riuscirete a capire però mi serve anche per dimostrarvi una cosa è il primo ad esempio il bracket 77 il più alto è un 85 cioè un livello sopra il bracket con livelli intendo questi e non livello trono il terzo è un bracket 85 pieno e il livello più alto è il 90 quindi un livello bracket sopra con fuori quota io intendo i personaggi che sono due livelli sopra il bracket arena ad esempio giocare in bracket 85 con un livello 100 ok si può fare a me risulta si possa mettere solo un fuori quota alcuni parlano di due o tre ma matematicamente secondo me perché intendiamo cose diverse il primo esempio molto bello e assolutamente verificato è questo un 100 volendo accantico 85 85 83 81 81 oppure questo sotto un 70 51 51 51 il primo va in bracket 85 il secondo in bracket 55 55 assolutamente testati e funzionanti devo però ricordare una cosa questi sono i livelli dei vostri 6 4 personaggi più forti del castello non per forza quelli che portate in arena il primo caso ad esempio potete portare un 100 85 85 83 e volendo 270 nessuno ve lo vieta no l'importante che i due livelli che abbiate due 81 che magari fanno i cuochi non me ne frega nulla però dovete averli in castello il terzo esempio che purtroppo non ho testato ma a logica dovrebbe funzionare è per un bracket 70 con un fuori quota ripeto primi due sicuri il terzo da testare notate una cosa qual è la differenza tra il livello più alto e livello più basso in questi team 181 70 51 85 66 19 da qui nasce la cosiddetta regola del 19 che in teoria la distanza massima tra livello più alto e livello più basso del team per stare ovviamente nel per avere un fuori quota ovviamente io ho letto la regola del 15 o altro ma è sbagliata lo dico con certezza perché i test sono chiari ciccio che è molto bravo su questo mi ha aiutato a capire una cosa che probabilmente corretta lui dice che la regola non è 19 ma in realtà bisogna guardare la sala addestramento esempio se voi avete un 100 avrete una sala d'addestramento a livello massimo che a destra da 86 a 100 lui dice che devi prendere il minimo di addestramento di quella sala quindi 86 togliere 5 e arrivi al minimo del personaggio che puoi usare con un 100 che fa sempre 81 quindi fa sempre 19 però ci aiuta a capire una cosa importante come spiegati in altre guide il trono non influenza il bracket ma la sala d'addestramento si lo fa con certezza e secondo molti di noi la sala del trono la sala d'addestramento può essere massimo un livello superiore al bracket in cui giocate prova a spiegarlo con un esempio concreto se giocate 85 85 70 70 70 70 andrete in bracket 77 è chiaro ma cosa succede se alzate la sala d'addestramento a livello massimo quindi per arrivare fino a 100 testato si passa in bracket 85 in automatico questo vuol dire che dovete al massimo alzare la sala d'addestramento di un livello sopra il vostro bracket mai due detto questo parliamo del bracket fantasma questo team 55 40 40 36 ha una media di 42,7 e andrebbe di logica nel bracket 47 eppure testato visto in arena mille volte per un qualche errore io penso sia solo un errore va nel bracket 40 tra l'altro vi faccio notare che anche qui si ripete la regola del 19 perché da 55 36 ci sono 19 se potete provate questo questo team perché farete i macelli detto questo concludendo rimangono però ancora dei misteri il primo quello più più chiaro evidente è che a trono 11 trono 10 esistono alcuni casi che toccano tre livelli bracket non so che è strano ma è così ciccio ad esempio giochi il 100 90 82 81 81 81 81 e nonostante questo è in bracket 85 confermato provato lui gioca così quindi lo so per certo non lo so il perché certamente ci sono altre eccezioni vi chiedo di parlarne parliamone non so bene come spiegarle però evidentemente c'è qualcosa che non ci torna vi ricordo di non fare affidamento su quello che vedete in arena dovete guardare i personaggi nel castello quello che c'è in arena non dice tutto detto questo in conclusione nello scorso video abbiamo regalato i primi diamanti mi scuso effettivamente la scelta di farlo in ordine cronologico è un po discutibile questa volta cambierò estrarò a caso chi commenta con il suo id su youtube o facebook quindi sulla pagina stelcastelitalia official avete tempo fino a mercoledì per inserire il vostro id non considererò quelli che hanno vinto l'ultima volta per ovvi motivi con questo è tutto spero che video possa essere utile ovviamente estrarò 10 persone vi saluto e buona domenica ciao